Ispo 2011, siamo allo stand Dalbello Fölkl con Daniele Maria, responsabile marketing, che ci illustra per il settore Scarponi Dalbello le novità della prossima stagione. Benissimo, ciao a tutti. Presentiamo qui all'Ispo 2011-2012 il modello totalmente nuovo, modello Viper per l'uomo e Mantis per la donna. Scarpone Gran Turismo Top, molto studiato, con la morfologia del piede, siamo andati a toccare o allineare bene il piede. Scarpone con tre tipologie di plastica, dove praticamente è una tri-iniezione, dove la suola è rigida, lo scafo è il flex per questo tipo di scarpa e mentre per entrare e uscire col piede abbiamo dei lembri soprapposti molto morbidi, che praticamente è una gomma. Questo facilita l'entrata all'uscita dal piede per questo tipo di consumatore. Oltre a queste caratteristiche abbiamo Coddle Form, che sono queste particolari bombature, dove praticamente vado a colpire il comfort di questo tipo di utilizzatore. Dove abbiamo questo particolare, il dito nel lungo, in questa parte qua e il tallone dietro. I modelli che troviamo per questo tipo di modello, abbiamo il modello 12, che è il 120 di Flex, il modello 10 con due colori e il Mantis, scusate, e il Viper 8. Il modello Mantis va a colpire la donna, la donna che siamo stati a studiare con una forma più stretta rispetto all'uomo.